Ciao amici, nuova recensione, vi parlo già del Topolino 3512 con questa ennesima copertina di Stefano Zanchi che elogia per l'ultima volta Il Principe delle Sabbie, questa serie che dopo 5 settimane volge al termine. Guardiamola meglio insieme. Diamo insieme un rapido sguardo alla copertina che, se dovessi paragonarla a quella di qualche numero fa dove Stefano Zanchi ritrai il Topolino Faraonico, Principe delle Sabbie, preferisco più questa perché la trovo più piatta in linea con i geroglifici egiziani. Per cui mi piace. Al colore mi pare ci sia Andrea Cagolla e in ogni caso, esatto, è un ottimo lavoro sia al disegno che alla ricerca delle tinte. Siamo serie, stagione 2, torna Silvia Ziche con questa serie che uscì l'anno scorso, due anni fa, non ricordo, di Badino e i testi. Questo però lo ricordo bene perché recentemente non l'ho più visto come autore e lo stimo parecchio. Quindi vedremo. Diciamo che per un attimo quando lessi questo teaser e vidi solo questa immagine ho pensato a paper novela. che è una serie che secondo me ha fatto la Ziche quella che è oggi, cioè la migliore serie sua in poche parole. Solo che era ovvio che non potesse esserlo perché ha una fine ben definita e paper novela può terminare con quelle 35 parti o 36 che già al tempo, tanti anni fa, ci deliziarono. Comunque siamo serie, stagione 2. È sicuramente un'ottima notizia per gli amanti della Ziche ma in generale per gli amanti del Topolino come me. Sempre lei appunto con Archimede. Peccato che la primavera l'abbiano già inventata. Tra tutte le stagioni la primavera è quella che forse preferisco perché segna un passaggio netto di temperatura. Negli ultimi tempi, negli ultimi settimane, sto quasi pensando di andare in pantaloncini corti in giro. Il che è molto molto strano ma d'altronde c'è un'area primaverile quasi estiva, perlomeno dove abito io. Mentre qui abbiamo l'itoriale di Alex Bertani. Ah, qui abbiamo ancora la limusine. Tra l'altro il mio occhio non cadde sulla limusine stessa. Da un commento, da quello che lessi e vidi qua e là, a quanto pare è un mezzo flop o meglio, a chi è arrivata intera, io consiglio quasi di tenerla chiusa. Perché può avere un valore collezionistico come ogni gadget. La limusine in sé, a detta di qualcuno, non è come ci si aspettava materialmente. Io però non dico che volessi aver ragione ma era palese fosse così e quindi l'avevo detto. A qualcun altro, e non ne sono pochi, arrivarono con dei pezzi staccati. Con la testa mozzata, con la mano di Battista Monca. Insomma, qualcosa che non dovrebbe succedere mai. E questo perché materialmente è scadente. Ma apprezzo comunque l'idea. Ma ripeto, il mio occhio cadde su, guarda caso, questo numero che dovrebbe essere uno dei più ricercati. Perché il numero 3.280 è una variant che io possiedo, che uscì in esclusiva solo per il sito. Ormai un anno e mezzo fa, o forse due. No, più di due anni fa. Non so perché misero questo numero così. In realtà non ha nulla a che vedere con il numero in questione. Però, boh, mi ha fatto venire in mente questo pensiero. Una variant che ora è talmente ricercata che non si trova. Perlomeno su eBay o anche in siti simili. Raramente, una volta ogni 3-4 mesi, vedo una copia. E quando c'è, a prezzi che sfondano le tre cifre. Quello che di Bertani mi interessa quest'oggi non è solo Siamme Serie. Che è appunto già intitolata il teaser. Ma è anche la presenza nuovamente di Cimino. Grazie al figlio Vittorio che diede la disponibilità di inviare il soggetto. E quindi vi spoilerò già che effettivamente il nome di Rodolfo Cimino torna su Topolino. Come speravo. È ovvio che è tutto faraci ad adattare la storia. Ma era giusto, e meno male che sia così, che vi fosse anche il nome e cognome del maestro Cimino. E poi gli esordi di Possenti, che ne parlerò fra poco, per me è piuttosto impattante al disegno. Eccola qui, la bella cover di Zanchi. Mentre qui l'indice. Il principe delle sabbie. Una storia di Paperino, secondo me la migliore dell'albo. Gli evaporati. Una su Fiuto Joe, che sarebbe il cane di Damite Blà. Un po' in scia dell'avventura di Malachia, del gatto di Paperino. E poi un'altra bella storia, che non mi aspettavo di leggere, di Gagnor, Valentini e Guerrini. Un cent per il club dei miliardari. Partiamo con Principe delle sabbie. Storia di Bertani e Vacca, con facciotto al disegno. Questa è una storia che è finita esattamente come pensavo, anzi forse peggio, per un elemento. Macchia nera, o meglio macchia bianca, quello che ricorderò esteticamente sarà questo passaggio, questo elemento. Si fa prendere in una maniera che non mi aspettavo. Mi spiego, era ovvio che finisse con la resa dei conti tra Macchia e il faraone, il figlio Topolino, il principe. Ma speravo in un combattimento, perlomeno in un confronto un pochino più deciso. Invece cosa accade? Topolino e Pippo sono rimasti dentro la prigione, dentro la trappola, ingannati da Macchia nera, che si pensava fosse l'oracolo secondo loro. Ma invece era Eta Beta, che aspettava fuori e cercava a questo punto di liberarli e ce la fanno, insieme a Mine e Clarabella. Una volta usciti, nel frattempo stando un pochino dietro come tempi e spazi rispetto a Macchia, Gambadilegno e Trudi, cercano di ritornare a casa loro per spiegare quello che è accaduto. Ma ovviamente, ripeto, Macchia e Gambadilegno sono molto più avanti e quindi arrivano prima di loro, davanti al Faraone, davanti al padre, alla fine di Topolino. In realtà ho trovato anche piuttosto sfacciato il fatto che Macchia nera si comportasse come se nulla fosse mai accaduto, anche nel passato, con il Faraone, davanti al Faraone stesso, perché a quanto pare, ma era ovvio che sia così, vi è un evidente astio fra i due. Il Faraone sa bene che Macchia nera, anche se mi fassano chiamarlo così perché sarebbe bianco, vabbè, è lì per spodestarlo e quindi il fatto che entri così in maniera sfacciata non mi è piaciuto. Ma era ovvio che poi Macchia nera venisse preso, non mi è piaciuto per nulla al come, perché la sua fuga, perché questo è quello di cui si tratta, dura circa due, tre, forse quattro pagine, facciamo anche cinque, insomma pochissimo. Quindi una storia che si è svolta, secondo me, piuttosto lenta, in tre parti di svolgimento, e poi molto veloce alla fine. Non lo so, non la ricorderò con piacere se non per alcuni elementi estetici, per il disegno di facciotto, indubbiamente, per il colore, ma è una storia di cui avevo basse aspettative, sono sincero. Mi piaceva l'idea, ma poi era ovvio che finisse così, ma che perlomeno speravo in una resa dei conti un pochino più combattuta tra i due, non mi aspettavo armi, pistole, lance, frecce, archi, però il modo in cui Macchia Nera viene preso è davvero imbarazzante, e quindi la storia finisce con un super lieto fine, come da pronostico. Quindi scusatemi lo spoiler, ma arrivando alla quinta parte su cinque era necessario dirlo, storia per cui dimenticherò. Secondo me non ci sarà neanche una deluxe, perché sì che la storia avviene uno studio dietro da parte degli autori, però non so a quanti sia davvero piaciuta. Forse al ragazzo, all'adulto, al collezionista neofita potrebbe essere interessata. Per me è la classica storia che si basa sul filo rosso di Le Gambà di Legno, Macchia Nera e Trudi, Conto, Topolino, Pippo, Migni e Clarabelle, insomma il classico divario tra protagonisti e antagonisti. Interessante invece il redattoriale di Gabriella Valera, in collaborazione con National Geographic Kids della Valle del Nilo, è una giornata in città. Io penso che l'antico Egitto offra le migliori sculture, i migliori reperti archeologici in tutto il mondo. È una meta culturale che prima o poi andrò personalmente a visitare, è un mio sogno da sempre. Paperino e il reclamo del mare, Vito Stabile e Christopher Possenti. Passiamo subito al disegno. Io rimasi fortemente colpito da questo autore, giovanissimo, molto acerbo, perlomeno perché esordiente, non so quanti altri opere lui abbia già firmato con il suo nome e cognome, ma una testata così importante come il Topolino, penso sia l'apice e il sogno di tutti. Per cui al suo esordio, in breve, mi ha colpito a tal punto che lo paragono a Stefano Zanchi. In che senso? Quando io vedi Zanchi per la prima volta a disegno, io ebbo un'illuminazione, perché ho visto finalmente con lui, con Zanchi, un disegno nuovo, uno stile che non si uniformi a nessun altro. Ci sono tanti autori e disegnatrici che continuano ad esordire il suo Topolino, cui però dimentico, perché comunque sono molto belli, ma non così diversi da tanti altri. Nella massa, una massa molto importante, da un livello importantissimo, si intende, quindi un livello molto molto alto. Eppure Possenti mi ha dato una vibe, insomma un'emozione differente, perché mi ha colpito esattamente come mi colpì Zanchi qualche anno fa quando esordi su Topolino. E per me questo è un grande complimento, dal mio punto di vista, perché ritengo Zanchi il migliore in circolazione attualmente, il dopo Frecero. Chissà che non possa essere Possenti in questa scia ad arrivare come Stefano. Ora, dall'editoriale iniziale si legge che Bertani piacerebbe di poterlo rivedere, Possenti, al più presto settimanale, quindi ho come l'impressione che questa storia sia stata un po' una tappa, così, non proprio di esordio, ma di prova, di sperimentazione. Chissà che dopo questa, visto l'apprezzamento, mio in primis, possiamo rivederlo. Vi sono alcune tavole spettacolari come questa, mi permetto anche l'ultima, perché, ma anche questa, realmente, ha una visione del tutto veramente interessante. Quindi, ottimo Possenti, bisogna dire anche ottimo il colorista, qui comunque Possenti ha supervisionato, al colore, ovvero Chiara Bonacini. E la storia è molto bella, Vito Stabile, io penso sia un autore molto sottovalutato, perché a volte esce con queste perle che non ti aspetti. Una storia in cui Paperino è attorniato, è continuamente frastornato da un incubo che continua a perseguitarlo. Un incubo che lo mette un po' in discussione, è un po' come un flusso di coscienza. Paperino, sappiamo tutti, si veste da marinaio, ma in realtà col mare non ha nulla a che fare. E infatti, il commento popolare che tanti amici mi dicono è, ma perché Paperino ha queste vesti, quando poi col mare, in effetti, ha nulla a che vedere? E Paperino è come se si interroga, grazie anche a Picco de Paperis, su questo suo vestiario, perché effettivamente è particolare. Tanto a tal punto che Paperino, nel suo incubo, vede costantemente questa onda come se andasse contro di lui e lui collega il tutto al vestiario, perché Picco è anche a farglielo capire. E quindi doveva trovare un modo, secondo anche i nipotini, per evitare che questo sogno si ripeta come avvicinandosi di più al mare, facendo sì che non vi sia questo flusso di coscienza in diretto. Si scoprirà, ovviamente, che non è proprio così, ma vi lascio la storia da leggere. È veramente particolare, una piccola perla. Mi dispiace quasi che abbia una conclusione, perché secondo me si sarebbe potuto usare a fare una piccola saga, magari di tre episodi, anche se il rischio poi era che diventasse forse troppo ripetitivo, troppo lunga, ma mi ha veramente conquistato. Ottima storia, divito stabile e ottimi disegni di un grande, posso già dirlo, Christopher Possenti. Qua abbiamo un redazionale legato al settimanale ciò che uscirà, mentre qui Fabio Licari con la pianista delle nevi, vediamo se anche a lei piace Topolino, come dico sempre, e sì, siamo pini di Topolino. Scusate, a me piace sempre prendermi questo momento un po' goliardico, non ho nulla contro Fabio Licari, però la domanda se ti piace Topolino, è ovvio che sia così, perché evidentemente siamo su Topolino. Mi piacerebbe un giorno, ma non sarà mai pubblicato, che un artista, un atleta, un attore dicesse a me il Topolino non è mai piaciuto, diciamo che mi piacerebbe capirlo di più, ma non sono così fanatico, apprezzerei di più, perché ovviamente è una domanda sterile e con la stessa risposta, mentre qui altro redazionale di Agrati che ci annuncia che vi saranno movimenti su Avengers, io non so letteralmente nulla di questa line-up di supereroi per cui salto, mentre qui abbiamo gli evaporati, continua il mistero, Marco Nucci ne cura la parte introduttiva, così anche nel Principe delle Sabbie, Bruno N, Cesarello invece ha la storia in sé, una storia che continua a stupirmi, anche se secondo me il livello di stupore l'abbiamo già raggiunto nelle prime due parti, ma ancora qui siamo alla ricerca non tanto del perché vi è la nebbia, cioè questo è il punto importante, ma di dove si è affinato Topolino. Non vi dico nient'altro perché la storia rischia di essere spoiler, ma Minnie è molto protagonista, mi piace anche molto per come viene disegnata da Cesarello con questi, non so cosa sia, queste trecce bionde, questi codini, insieme a Manetta, coppia mai vista, Minnie e Manetta assieme, che ricordando un po' il passato del poliziotto davanti a questa parte, vengono a loro in mente dove potrebbe essere Topolino, a quanto pare si dice essere passato a Mousetown, una città che non conosciamo, insieme a Batettoni. Sarà vero, non sarà vero, perché è andato lì, ci sarà tornato, è ancora lì, insomma, tanti, tanti enigmi, in tutto ciò ricordiamoci il mondo ecclissato, il fatto che Gambadilegno sia dentro la banca, la nebbia in generale, dove sia Pippo, ecco, ci sono tante, tante domande, che aspetto che vengano risolte, spero, in una maniera sensata, in una maniera narrativamente funzionale, questa saga, lo dissi subito fin dall'inizio, aveva qualcosa in più fin da subito rispetto al Principe delle Sabbie che si è spento, secondo me, in una maniera non così eccezionale. Le pensatune di Fiuto Joe cercasi pennuta, una storia, come dissi prima, in scia delle simpatiche storie di faccini con Malachi e al Gatti Paperino, qui la stessa cosa in maniera un pochino più brusca, più rozza, con Fiuto Joe, il Cagnolone di Dinamite e appunto lui stesso. Sono due personaggi che ho sempre apprezzato, Dinamite in particolare, il cane fa un po' da mascotte, chissà che sicuramente mi viene da pensare non vedremo un domani anche altre loro storie. Sarebbe bello, io ho sempre avuto questa idea molto topistica di avere anche delle statuine di questi personaggi molto secondari perché se io dovessi essere un vero fan di Disney e avessi una stampante 3D cosa che però non farò mai, mi piacerebbe avere tutte le statue di ogni personaggio Disney uscito da Hawk Quack a Little Gamma a Pacuvio per dirne tre che recentemente ho un pochino analizzato o anche Fiuto Joe Dinamite stesso che ne ha avute qualcuna sì, un paio ma ne meriterebbero altre però sono personaggi che effettivamente poco spendibili anche al pubblico e la storia dura sei pagine letteralmente con questa ricerca dalla gallina scomparsa e sarà Fiuto Joe a trovarla. Mentre non me l'aspettavo ma oggi il 17 marzo in cui pubblico il video perlomeno vi è la giornata del ronfo la giornata del sonno dove il koala addirittura dorme 22 ore su 24 è incredibile la strana vita di questo animale mentre il gatto che tra l'altro posso capirlo perché non è in casa dorme ben 14 non ci ho mai pensato ma è vero potrebbe essere forse anche molto di più perché dubito che 10 ore stia sveglio visto che la routine del mio gatto per esempio è passare dal letto in cui dorme a mangiare va magari in terrazzo in giardino poi non fa nient'altro non ha neanche chissà quale spazio per uscire perché comunque è delimitato posso capirlo più di 16 ore a dormire 14 che siano secondo me diventano anche 20 in qualche giornata magari un pochino più buia in cui è bagnato e passiamo all'ultima storia che mi ha colpito anch'essa un cento per il club dei miliardari Gagnor, Valentini e Guerrini quest'ultimo al disegno a volte lo apprezzo a volte no ho un commento un po' altalenante però devo dire che questa storia l'ho trovato azzeccato nel disegno che mi sono segnato anche una pagina perché mi è davvero piaciuta e poi anche per una spiegazione in particolare la storia anche non me l'aspettavo ma sono riuscito a realizzare una storia a tema miliardari che non sia già vista e rivista il cento cos'è è spiegato anche all'inizio è la cerimoniosa entrata dei nuovi tycoon quindi chi diventa miliardario viene una volta all'anno direi non so se è una cosa periodica o meno direi di sì reso celebre con un tappeto rosso come a dire tu fai parte del nostro club ma udite udite chi è il nuovo miliardario che dà quasi fastidio a tanti Gastone dopo l'influencer il magnate l'inventore una serie di miliardari che in qualche modo la prendono stereotipi già visti Gastone è un po' la novità che arriva sfrecciante in questa macchina e inizialmente sembra essere di buon auspicio lui è una persona fortunata quindi non può fare altro che aiutare anche il club stesso ma in realtà si rivelerà una zappa sui piedi o una palla al piede per lo zio e anche per Rocker che si sentono in qualche modo spodestati perché Gastone ogni minima mossa che fa o ogni cosa che dice dà la fortuna e baciato e quindi in qualche modo è aiutato ecco da questa tavola mi permetto di leggere testualmente quello che accade per farvi capire effettivamente la sfida che c'è tra lo zio e Gastone e così ho scoperto una miniera d'oro in lontanazia guadagno netto 20 milioni Gastone risponde idem ho comprato a caso l'aio per tutti SPA e il rapper Stinky ha iniziato a usare un odorante all'aio ora Varuba lo zio controbatte ho acquisito la PAPRFLY compagnia all'Aucoste con gli aerei a pedali ho guadagnato 30 milioni e Gastone ancora con la campanace le TD ho conquistato tutti i mandriani del Calisota grazie a questa foto pucciosa 30 milioni anche per me e lo zio nuovamente ho comprato tutti i quali di Polo Jackson per risporre in inclusiva guadagno netto mentre Gastone ancora la stessa cifra che mi hanno offerto per il mio fazzoletto alla Fiera della Fortuna sai com'è la gente mi considera il massimo artista del genere ovviamente Rocarduck se la ride ma non sarà così per molto questa diatriba arriverà a intossicare il club e Gastone forse non è così interessato a essere un miliardario comunque veramente una bella storia una piccola chicca per essere la classica storia finale l'ho trovata scorrevole avevo paura che il disegno non mi piacesse e invece tutto sommato anche questo l'ho goduto mentre questa settimana bisognerà andare per chi potrà da Mario Ferracina perché non ho capito dove esso sia ma quello che sarà più importante almeno per me settimana prossima circa a Genova con Stefano Zanchi ho qualche contatto che ci va per me sarebbero circa 30 km ecco di distanza non so onestamente perché io Zanchi comunque già lo conobbi e potrei andare con questo Albe e farmelo firmare ma andare lì apposta per una firma sì c'è anche una litografia bisognerebbe capire sarebbe bello secondo me se negli editoriali ormai troppo tardi ma per una futura iniziativa mi permetto un commento se la litografia potesse essere già annunciata così che io sono invogliato ad andare perché io mi immagino che Zanchi compia un'illustrazione spettacolare ecco fosse già messa qui per dire guardate che bella venite apprezzerei di più invece così quasi la voglia non ce l'ho quindi non so manco mentre l'angolo dei lettori è fatto di questi amati bei bambini anche Davide da Torino dal numero 1000 al 3500 in una sola foto un grazie di cuore al papà Beppe che sarà lui collezionista che tramanderà il tutto al figlio e poi ancora Giovanni Maren Pietro Aurora Veronica Linda Diletta Zio Davide Duccio e Marta mentre in edifico troviamo i grandi classici di Paperone Supereroi ah sui grandi classici ho un utente che si sta giustamente forse lamentando del fatto che i grandi classici non siano più quelli di un tempo tra virgolette e arrivati quasi al centesimo numero quello che si poteva definire la migliore serie la migliore testata forse è messa un po' in dubbio per la qualità delle storie proposte io penso ci possa stare dopo quasi 100 albi 89 che siano 90 però il grande classico io per esempio ho sempre detto che va comprato non sono più così sicuro visto che in realtà non è l'unico quest'utente a farmi notare che sicuramente i primi 50 per intenderci erano migliori in ogni caso io non lo compro ma valutate voi ecco magari qualcuno che li compra può dirmi se ha notato un calo di qualità di idee e di storie proposte sul numero prossimo troviamo ovviamente l'indimenticabile Rodolfo Cimino Tito Faraci e soldati alla storia adattamento al disegno di una storia nuova di Nonna Papua e raccontata nel fuoco con la leggenda del console Paolo e della tenace Lucilla episodio 1 di 2 e 2 di 2 la cosa che mi darebbe fastidio avessi io comprato l'ultimo anzi gli ultimi volumi delle storie imperdibili di Cimino di questa rubrica è non avere in quell'edizione anche questa storia secondo me è un errore a meno che un domani si voglia ricreare un ennesimo albo solo che non basterebbe per queste solo due storie ne vorrebbe almeno un altro paio quindi non so o è sul calderone anche questa idea oppure il rischio è per chi ha le storie imperdibili ovvero la ristampa della saga della Nonna Papua e raccontata a fuoco non abbia proprio l'ultima uscita seppur Cimino ci mette solo la firma della sceneggiatura poi in realtà magari voleva rimodularla avrebbe voluto cambiarla non si sa continuano gli evaporati di Enna Cedarello una storia di Faccini e una di Artibani Camerini e Van Bigarella terminerà Faccini così come termina oggi con una storia buffa una gag in cui il paperoga chiede quanto ti manco in termini emotivi affettivi all'oggi di paperino ma io lo chiedi nel giro di un secondo e quindi effettivamente la risposta non può che essere questo sbigottimento del papero dunque un fomento che promuova pieni voti principe delle sabbie guardate lo valuto sei e mezzo non di più non arriva al 7 perché il finale mi ha un po' deluso o meglio in linea con le aspettative è addirittura qualcosa di meno ma aspettative erano già basse e quindi non posso dare un grande voto ma questa è una mia opinione che magari cozzerà con quella di molti altri le due storie autoconclusive di paperino e quella del cente le ho trovato davvero belle e queste rendono il topolino sicuramente importante poi Possenti al disegno Guerrini può piacere o no sono due grandi autori io mi permetto già di dire che Possenti lo è perché dà l'idea di essere già pronto mentre Gli Evaporati continua ad essere una storia meritevole penso che il mistero si sta sempre più infittendo il finale poi di questa puntata dà ancora più suspense vedremo e la storia su Dinamente Bly Fito Joe pare essere interessante se vi è un continuo alla prossima grazie ciao ciao grazie a tutti